benvenuti e bentrovati ad una nuova puntata del podcast air stylist di successo io sono emiliano lemma ma soprattutto qui con me c'è michela ciao a tutti michela ferracuti diciamo anche il cognome perché è giusto che le persone si ricordino il tuo cognome allora michela intanto tutto bene tanto noi non ci perdiamo tanto in preamboli andiamo subito tutto bene tutto bene ok sei pronta per una puntata avvincente prontissima ok allora ci è venuta l'idea per registrare questa nuova puntata del podcast da un semplice post che hai scritto su facebook e poi quello che accade sempre nel senso che le persone i formatori gli esperti di marketing quale siamo noi perché il nostro lavoro spesso si interrogano su cosa devono fare per attirare attirare l'attenzione dei propri clienti è riduttivo in realtà la fase giusta è per colpire nel segno per andare a toccare le corde giuste del proprio pubblico che poi alla fine è il compito di chiunque abbia un'attività ok e spesso è la realtà a darci gli spunti più importanti infatti la realtà è nel nostro caso quella di una domanda scritta via email da una parrucchiera che ti segue che ha acquistato il tuo libro i tuoi corsi e che tu poi hai alla quale hai risposto pubblicamente su un tuo post su facebook e questo post ha avuto un grande successo questo cosa significa significa che questa è una di quelle cose che hanno toccato le corde giuste allora raccontiamo un attimo qual era la domanda e poi lascio finalmente parlare michela perché penso che ne abbia da dire di cose molto più interessanti rispetto a quanto farei allora il post diceva perché michela ci sono dei saloni di acconciature che hanno successo che non hanno mai problemi di clienti che non hanno alti e bassi a maggior ragione questi saloni hanno mediamente i prezzi più alti degli altri però non fanno marketing perché è facile poi tracciare un po il comportamento specie online dei concorrenti no e ci ma perché questi saloni importanti non fanno marketing cosa cosa abbiamo risposto a questa persona allora innanzitutto mi fa davvero piacere che questa persona mi abbia fatto questa domanda perché vuol dire che inizia a rendersi conto che c'è molto da fare e che quindi già iniziando a guardare quello che fanno gli altri saloni significa iniziare ad avere un po più coscienza del mercato in cui lavora per cui andiamo con ordine e iniziamo a rispondere alla tua domanda e alla domanda di questa parrucchiera che mi ha scritto bisogna sapere innanzitutto che è una cosa che non succede solo nel settore dei parrucchieri ma succede in qualunque settore può sembrare un fenomeno inspiegabile perché la prima domanda che ti viene da farti è come fanno e come fanno ad avere così tanto successo pur non facendo marketing in realtà la spiegazione c'è e è una spiegazione abbastanza semplice e banale non è vero che questi saloni non fanno marketing è vero piuttosto che fanno il vero marketing quello che ovviamente come ci siamo anche un po risposte anche noi quello che non trovi nei blog che nemmeno nessun formatore ti ti spiega perché si concentrano su altri aspetti quindi in realtà il marketing viene fatto e viene fatto il marketing quello vero e serio ok allora il marketing quello vero no quello c'è che consente entriamo quindi tu hai detto che è una cosa che accade in tutti i settori lo posso confermare anche i settori che seguo maggiormente io come quello della ristorazione anzi posso dire che ha maggior ragione in quella della ristorazione è così perché i ristoranti più famosi lasciando perdere quello degli chef che vanno in televisione perché è ovvio che lì è un altro discorso però i ristoranti più famosi sembra che non facciano marketing perché non troverai mai il ristorante più fighetto più in voga di maggior successo della tua città fare una campagna di acquisizione clienti su facebook non la vedrai mai quindi cosa ne deduci a ma loro non fanno marketing errore perché come dice michela loro fanno il vero marketing quindi restiamo ora concentriamoci sui saloni di acconciature quindi ti chiedo michela qual è questo vero marketing cos'è che consente ai saloni di successo di tenere i prezzi alti pur senza all'apparenza fare delle campagne di marketing che si possono vedere allora innanzitutto ho precisato una cosa per i parrucchieri fare marketing di solito consiste nel avere l'atteggiamento giusto mentre si lavora oppure pensare alla qualità dei servizi che si offrono ai clienti oppure ecco è avere i prezzi giusti oppure ancora fare delle campagne di acquisizione clienti magari addirittura tramite facebook ads allora lasciatemi spiegare questi concetti innanzitutto avere l'atteggiamento giusto o concentrarsi esclusivamente sull'atteggiamento non significa fare marketing non è una marketing non è un'arma a disposizione del marketing se devi fare un corso che ti insegna a sorridere alla vita e ad appassionarti al tuo lavoro allora lasciamelo dire una volta per tutte forse ci sono dei problemi che non ti posso risolvere e non si possono risolvere forse è il caso anche di cambiare lavoro a quel punto di vista poi il secondo fattore era la qualità parlavamo della qualità di pensare di offrire dei servizi o dei prodotti di qualità allora la qualità non è un fattore differenziante può sembrare una gran cosa dal punto di vista del parrucchiere però devi capire una volta per tutto e per tutte che per il cliente non è una cosa eccezionale il cliente la qualità la pretende a prescindere cioè la da è una cosa che dà per scontata inoltre non avendo il cliente stesso gli strumenti adatti per capire la differenza nella qualità di un prodotto di un servizio è una cosa che non riesce a distinguere perché non è un tecnico è come se a me ogni volta andassi come cliente all'interno di un sapone di un salone mi dicessero questo è un servizio di altissima qualità però per me ti dovessi dire non fa alcunissima differenza certo la pretendo ma da quel punto di vista non riesco a capire tecnicamente perché questo servizio è un servizio di qualità lo fanno spesso mi raccontavi anche tu recentemente il parrucchiere ma come qualunque imprenditore commerciante si sofferma sui dettagli tecnici di quello che fa ma il cliente uno non interessa realmente e due non può capire perché lui non ha studiato come te la materia alla fine lui guarda il risultato poiché il cinese magari usa i prodotti di bassa qualità e tutto poi alla fine la persona si guarda allo specchio se si piace è contenta chiusa la parentesi ti lascia continuare esatto quindi riprendendo il discorso della qualità non è un un'arma di marketing cioè in realtà non ci puoi costruire niente sopra sulla sulla questione della qualità della qualità ovviamente la qualità non deve mancare ci mancherebbe però non è un'arma a disposizione per poter fare del vero marketing poi parlavamo del terzo fattore che volevo andare un attimo a spiegare era quello di avere i prezzi giusti allora il benedetto prezzo giusto qual è il prezzo giusto se ci sono dei saloni anche magari nella stessa zona o nello stesso quartiere che hanno prezzi bassi e fanno fatica e invece ci sono dei saloni che hanno dei prezzi disparatissimi altissimi eppure sono sempre pieni ti faccio ti faccio anche un esempio a te emiliano direttamente nel mio stesso quartiere c'è un salone che è molto conosciuto e ha dei prezzi altissimi ci sono andata anch'io e vi dico solo che per un servizio sono riuscita a pagare 225 euro ho fatto lo stesso servizio da un altro parrucchiere del mio quartiere e ho speso 35 euro allora qual è il prezzo giusto questi 225 euro oppure questi 35 euro per lo stesso servizio ti dirò il salone dove ho speso 225 euro era strapieno ok c'era uno dietro l'altra di cliente nell'altro invece ci siamo messi beatamente a chiacchierare io e questa parrucchiera perché perché aveva la settimana praticamente libera quindi se il discorso è basare il proprio marketing sul prezzo ti posso dire a questo punto che non ha assolutissimamente senso scusami l'intervallo tu sei rimasta contenta anche del servizio anzi soprattutto del servizio da 200 e passa euro magari tuo marito quando poi ha visto cioè avrà detto qualcosa di non bello e avrà detto tu non ti permettere più vai no vabbè no 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 assolutamente e poi l'ultimo l'ultimo fattore di cui vi vorrei chiarire la l'importanza o meno se consiste nel fare marketing oppure no era quello di fare delle campagne di acquisizione clienti magari su facebook ads giusto confermi giusto ok allora le campagne di acquisizione clienti allora se usi magari facebook ads all'inizio attiri un po di clienti ma dopo un po ovviamente è anche fisiologicamente i risultati iniziano a diminuire inoltre corri il rischio di attirare clienti fuori target me lo confermerai anche tu che rischi di andare incontro ai cacciatori di sconti e quant'altro quindi proviamo a fare una sorta di test immaginario ok prendiamo un salone piccolo e indifferenziato che mette 100 euro in una campagna di acquisizione clienti classica tipo servizio base a prezzo scontato giusto ok la stessa campagna uguale con gli stessi 100 euro di budget la fa anche un salone conosciuto e di successo sempre di quella zona io do per scontato che i risultati potranno potranno essere che il primo salone quello totalmente indifferenziato e piccolo magari riuscirà a tirare tre quattro clienti al massimo mentre quello il secondo quello più famoso secondo me ne riuscirà a tirare una trentina ok perché accade questo perché questo secondo salone questo salone un po di successo un po più conosciuto all'interno del quartiere è un brand posizionato nella mente delle persone il brand famoso non ha neanche bisogno di fare queste campagne perché fa il marketing e fa il marketing vero quello che porta reali risultati e non lo fa da uno due giorni oppure da un mese tre mesi lo fa da anni cioè è un processo lungo non è una cosa che si può fare una tantum il marketing che ha portato quel salone ad avere il successo attuale si chiama creazione e diffusione di un brand ci vogliono anni per creare un brand e posizionarlo ovviamente nella mente delle persone ma una volta che questa cosa succede è arrivato il momento di riscuotere il successo quindi la strada è tutta in discesa tutto molto più semplice anche nell'acquisizione di nuova clientela mi è venuto in mente un esempio così michela riprende un po fiato perché è lungo no ci pensavo poco tempo fa ero in spiaggia camminavo così riflettevo ovviamente sul mio lavoro e riflettevo sul fatto che adesso va anche tanto di moda il personal branding no chiari per farvi capire tipo montemagno penso che tutti abbiate visto dei montemagno dei montemagno è una categoria dei video di montemagno è molto bravo ci sa fare è tutto quello che è evidente no se le stesse cose però io prendessi un video di montemagno lo sbobinassi e lo girassi io stesso beh di sicuro non avrei lo stesso seguito ma attenzione è ovvio mi direte lui ha un milione di follower no e qui no anche a parità facciamo che io metto sul piatto abbastanza denaro su facebook e diciamo che so abbastanza come fare e per arrivare allo stesso numero di persone bene potete essere sicuri che io farò un decimo ma anche un centesimo del engagement si dice in gergo tecnico di coinvolgimento degli altri ma soprattutto passeresti come la brutta copia oltre a quello oltre a quello quando ero quello di cui su cui riflettevo appunto in spiaggia l'altro giorno gli ultimi giorni di vacanza che ho trascorso era che questa cosa qua in realtà io l'avevo intuita anche se non pienamente capita già da ragazzo cosa succedeva da ragazzo io ero ma parlo di quando avevo 16 17 anni a un certo punto ci siamo trovati mi sono trovato in una compagnia numerosissima di una 30 e passa persone d'estate no ovviamente bene allora si era lì si passavano le serate le giornate anche le serate a un certo punto mi è capitato in più di un'occasione di dire sa andiamo a prenderci un gelato e vedevo che sì un paio di persone quelle più vicine a me diceva va bene io ci sto gli altri alcuni facevano finta di non sentire altri si guardavano un po' attorno come per cercare dei punti di riferimento no e io ci sono passato oltre stessa cosa la sera successiva con la differenza che poi un altro appartenente di questo gruppo dopo dieci minuti ha detto sa andiamo a prenderci un gelato e tutti sì e vai andiamo a mangiare un gelato quindi tu eri lo sfigato del gruppo no no e non ero lo sfigato del gruppo era una persona che aveva la sua visibilità aveva la sua cerchia di amici più stretti ma non ero leader ma non ero leader non il mio brand il mio personal brand non era abbastanza conosciuto quindi la stessa frase nello stesso contesto con le stesse persone non avevo non aveva risultati infatti io sai cosa facevo perché poi non ero leader ma fesso non ero quando avevo voglia di mangiare un gelato no 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 andavo da uno dei leader che erano un paio andavo lì e dicevo guarda facciamo così ci vorrebbe ci vorrebbe proprio un buon gelato perché la sera è calda e tutto però gli ho detto dillo tu perché tu sei tu qua sei sei il più bravo sei il migliore sei il leader se lo dici tu vengono tutti magari dice ma no dai non è vero prova dai proviamo prova a dirlo tu ragazzi andiamo a mangiare un gelato sì dai andiamo e lui era tutto contento e felice si sentiva riconosciuto nel suo ruolo però anche io ottenevo il mio risultato alla fine a me interessato andare a mangiare il gelato ok ok proseguiamo questa parentesi sulla tua adolescenza da sfigato e andiamo oltre quindi diciamocelo chiaramente questa cosa significa tradotto nei nei saloni di acconciature significa che anche fare come dicevi tu prima nell'esempio una campagna pubblicitaria imitata da quella di uno dei migliori e beh i risultati saranno sicuramente differenti quindi diciamocelo senza costruire e senza diffondere un brand puoi fare poi tutte le campagne di marketing che vuoi ma farai sempre fatica guarda non me lo dire questa è una cosa che faccio fatica a far capire purtroppo e faranno fatica perché perché ci sono sostanzialmente tre motivi per cui la la campagna di un salone brandizzato avrà più successo rispetto a quello indifferenziato innanzitutto se inizia a farlo tu come salone indifferenziato se fai qualcosa di rilevante poi in termine di acquisizione clienti tutti gli altri concorrenti se se ne accorgono e ti copiano vanificano tutti i tuoi sforzi e ovviamente ci perdi anche dei soldi perché poi tornate sempre allo stesso livello tutti uguali che fate tutte le stesse cose anche le stesse promozioni in più c'è sempre il rischio di attirare i cacciatori di sconti quelli che tanto affezionati ai servizi di cuponistica quelli che di solito mi chiedete cosa ne penso e io puntualmente vi rispondo sempre allo stesso modo tutto il peggio possibile ok in più continuando a fare un discorso di acquisizione clienti di questo tipo rischi di abbassare la percezione di qualità di ciò che fai rischi di far arrabbiare i tuoi attuali clienti che pagano poi il servizio a prezzo pieno sì perché il marketing mettetevela in testa questa cosa qua il marketing non si fa sulla qualità non si fa sui prodotti il marketing si fa si basa sulle percezioni il marketing si basa sulla mente delle persone quindi questa è una domanda che spesso ci viene posta viene posta dai nostri clienti in particolare quindi a michela da parte dei titolari di salone di acconciature ed è proprio questa ma se io faccio campagna di acquisizione clienti per dei servizi base a prezzo molto scontato non corro il rischio di abbassare la percezione della qualità di quello che faccio sì si corre questo lì rischio anche se poi è vero che bisogna cioè ci sono vari livelli e varie situazioni magari un salone che è proprio in difficoltà che uno non sa come fare per tirare dentro persone allora va bene anche quello certo va studiato di caso in caso non vi posso dire ovviamente fin da subito abbandonate tutto e mollate quello che avete fatto fino adesso no dovete iniziare a costruirvi un brand un brand riconoscibile nella mente del cliente cioè quando penso a un salone qual è il primo salone che mi viene in mente in zona questo è sostanzialmente quello che accade nella testa dei clienti quindi dicevo se inizi a costruirti un brand tutto quello di cui abbiamo parlato prima quindi i cacciatori di sconti l'abbassamento della percezione di qualità questo non succede perché perché un brand è posizionato nella mente delle persone come ha detto anche molto bene emiliano e quel che funziona per lui non funziona assolutamente per tutti gli altri anche quando vi ho fatto l'esempio di montemagno se lui facesse la copia di montemagno verrebbe sempre percepito come una copia di infima qualità rispetto a un montemagno scusa infima però chi la dice a qualcun altro vabbè di qualità inferiore quindi l'ho detto anche prima io nel nell'esempio che vi ho fatto quello delle campagne della dell'acquisizione clienti immaginaria tra un salone indifferenziato è un salone invece di successo se quel salone lancia un servizio a prezzo a prezzo scontato il salone quello più conosciuto viene preso d'assalto perché perché tutti lo conoscono anche i non clienti e anche questi che non sono i clienti di questo salone vorrebbero andarci però magari costa un po troppo quindi loro sono riconosciuti come i numero uno come i migliori e come gli specialisti è per questo che aspetterebbero anche e vorrebbero spendere anche quella cifra che non potrebbero permettersi i clienti pur di andare all'interno di quel salone invece tu salone indifferenziato se anche fai i prezzi inferiori a quelli di questo salone di successo anche se investi un sacco di soldi in campagne pubblicitarie di acquisizione clienti troverai purtroppo lasciatelo dire un muro di scetticismo di diffidenza perché perché la gente non si fida e perché la gente non ti conosce il brand quindi riassumendo fa sì che tu sia conosciuto e fa sì che si riesca ad abbattere la diffidenza da parte anche delle persone che non ti conosce ok quindi direi che la via di uscita per chi vuole la vera risposta che possiamo dare a tutte queste persone che sicuramente la domanda che ha fatto la nostra amica parrucchiera se la sono posta perché è così perché tutti si chiedono perché ci sono io adesso devo mettermi fare le campagne su facebook devo farmi il blog e tutto e invece quelli là quel salone lì non fa niente di tutto ciò eppure è pieno bene perché loro hanno un brand e tu non ce l'hai quindi la via di uscita è quella di costruire e diffondere un brand un brand che sia focalizzato specializzato che faccia qualcosa di differente rispetto agli altri concorrenti ok andiamo avanti poi chiariremo meglio anche questi concetti quello che ti voglio chiedere però michela è ma e questo è un altro punto importante un altro dubbio che hanno i parrucchieri ma anche un piccolo salone di periferia o un salone di un paese può crearsi un brand può trasformarsi io direi in un brand sì assolutamente sì ovviamente l'importante è fare le cose nel modo e nei tempi giusti bisogna seguire comunque una procedura nella costruzione di un brand allora quindi quali sono questi passi per la costruzione di un brand allora molto velocemente a te li vado ad elencare perché parlarne poi più approfonditamente se si tratterebbe di stare qui giorni e giorni però allora come prima cosa bisogna fare l'analisi del mercato ok e per analisi del mercato io intendo bisogna assolutamente iniziare a conoscere i tuoi concorrenti questi tuoi concorrenti che non mi cioè che non non dico che siano tutti i saloni di parrucchieri da qui da torino per esempio a canicattì no inizia da la tua zona dalla tua zona dal tuo quartiere dal tuo paese e magari dalla tua città se proprio vuoi allargare il giro quindi questi concorrenti che cosa fanno e come lo fanno ok poi il secondo punto nella creazione del brand nella costruzione del del brand è la scelta di un'idea differenziante con una promessa di brand cioè questo brand deve andare a come dire a promettere la soluzione di un problema ok poi si passa alla creazione del logo alla scelta di un nome e alla conseguente creazione di uno slogan che vada a specificare anche questa promessa di brand ok poi la costruzione del brand tramite le pr le pubbliche relazioni e infine l'ultimo passaggio nella costruzione del brand è la diffusione ok la diffusione di del brand attraverso il marketing sono dei passaggi chiaramente interessanti che però mi sembra un po complessi forse non sono alla portata di tutti ma no in realtà no perché allora già banalmente tutti quei titolari di saloni che mi seguono e hanno letto il mio libro e sanno ciò di cui parlo sono già molto avvantaggiati da questo punto di vista e quindi non avranno assolutamente problemi a compiere questi cinque passi di cui ti ho parlato prima per cui la creazione del brand sappiamo ora quali sono qual è il procedimento e chi mi segue riesce a capire concretamente come poter andare ad agire e poi nel mio corso air stylist di successo masterclass è proprio uno dei punti più importanti di cui parlerò durante questo evento quindi andrò a parlare nello specifico della costruzione di un brand perché perché solo creando un brand forte un salone può essere sicuro di crescere e prosperare un domani senza per forza dover continuare a combattere la classica battaglia dei prezzi e finalmente siamo arrivati al corso no a grande richiesta questo è veramente sembra uno slogan pubblicitario ma è la verità a grande richiesta michela ferracuti farà un corso e ci sarò anch'io lì in un angolo no perché finalmente finalmente questo corso dici dici sì mi sono finalmente convinta perché oramai le richieste erano così tante che ho capito che finalmente i tempi iniziano ad essere maturi per cui c'è già gente che capisce qual è il mio metodo e capisce anche che funziona però ce lo siamo detti tante volte io ho deciso di fare un corso che non fosse adatto un po a tutti infatti ho creato una masterclass forse un domani farò anche un corso base però in questo evento andrò a trattare degli argomenti diversi e anche avanzati rispetto a quello di cui ho parlato finora perché perché voglio ricompensare quelli che mi hanno seguito fino fino a questo punto e quindi portarli a un livello successivo bene sono sono molto contento sia della tua decisione e sia del fatto che so che questo corso sta le prevendite di questo corso stanno andando molto bene ora non entriamo nei dettagli ma so che ci sono state parecchie persone che hanno acquistato il biglietto a scatola chiusa cioè non c'era una pagina di vendita non c'era niente non c'era il programma del corso ancora hai detto soltanto alle persone che ti seguono in un gruppo nell'area nel gruppo anzi diciamo a chi ci ascolta se svolgete la professione di parrucchiere e solo lo specifico perché non verranno accettate richieste di iscrizione di chi non lo è cercate su facebook il gruppo air style di successo quindi non la pagina ma il gruppo air style di successo è una sorta di area ristretta riservata dove si parla soltanto di tematiche di marketing relativi al mondo dei dei saloni di acconciature e dicevo soltanto dicendo là hai raccolto una serie di iscritti sì e hai raggiunto peraltro il numero e ti spiego anche il motivo perché perché questi parrucchieri hanno capito che il marketing serve per cui questo che sia da lezione a tutti quelli che continuano a dire che il marketing non serve a niente oppure è anche una risposta a quelli che continuano a dire che se si lavora bene al prezzo giusto si può avere successo no non è vero perché se così fosse non ci sarebbe questa crisi da parte dei saloni di acconciature e soprattutto è una risposta a tutti quelli che ancora continuano a dire che per via della crisi o perché uno è sfortunato allora nessun altro ti può insegnare niente no in realtà questi parrucchieri che hanno colto al volo l'opportunità di partecipare al mio corso si sono resi conto che quello di cui parlo cioè di marketing di marketing pratico è indispensabile per un'attività per un parrucchiere per un titolare parrucchiere di un salone di acconciature per iniziare a lavorare in maniera costruttiva nel mercato del 2017 sì io direi a parte che tutto molto molto interessante direi però una cosa rimandiamo alla prossima puntata del podcast i dettagli maggiori dettagli sul corso ok perché così non la facciamo troppo lunga non deve sembrare una marchetta io mi limito a dare qualche dettaglio logistico intanto quando si svolgerà il corso il 23 ottobre del 2017 quindi se ci stai seguendo dopo ci stai ascoltando ed è già passato il 23 ottobre pazienza sarà per il prossimo anno dove a bologna presso l'hotel ramada encore ok è un hotel di bologna comodamente raggiungibile attenzione perché siamo mentre sto parlando oggi è il primo settembre in fase di lancio il prezzo è di 149 euro più IVA ma ancora per pochi giorni se volete maggiori informazioni se volete iscrivervi o scrivete un'email a Michela l'indirizzo è michela chiocciola michelaferracuti.it oppure chiedetele direttamente l'amicizia su facebook perché tanto risponderò molto volentieri mandate un messaggio oppure dalla pagina facebook air styles di successo o all'interno del gruppo di air styles di successo o del suddetto gruppo di air styles di successo insomma in un modo o nell'altro se ci volete se volete maggiore informazioni su questo corso il modo per contattarci c'è lo trovate e quindi mandateci mandate mandate a Michela una richiesta di maggiori informazioni vi saranno fornite io direi che possiamo avviarci verso la chiusura non prima di aver introdotto il tema del prossimo podcast faremo una puntata del podcast air stylist di successo dedicata alla specializzazione e al fatto che almeno il 90% dei saloni di acconciature che credono di essere specializzati in realtà michela non lo sono affatto e poi vi spiegherò il perché ok quindi rimaniamo con la suspense un po così per seguirci allora itunes di apple un app per l'ascolto dei podcast se avete un telefono apple c'è l'app podcast è un app con lo sfondo con l'icona viola quindi basta andare lì cercate air styles di successo o cercate anche solo michela ferracuti lo trovate trovate tutte le puntate sono gratuite oppure con l'app di spreaker o ancora sul sito air stylist di successo.it c'è la sezione podcast e lì c'è l'elenco di tutte le puntate se rilasciate un in una recensione su itunes è una cosa che ci fa molto piacere quindi michela finita ti saluto ci sentiamo per la prossima puntata prima possibile ciao ciao a tutti ciao